Bentornati, bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Iaia Rondi. Io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e come potete notare, vedere barra ascoltare, oggi sono tornata ad essere sola e non l'allevando ovviamente i miei ospiti, che io ringrazio anche mio marito, soprattutto mio marito, però io quando sono sola riesco ad essere me stessa. Cioè ho bisogno, capito, perché io parlo tanto, io ho la parlantina, quindi è come se sono me stessa ma non riesco ad esprimere proprio tutta me stessa. Quindi poi comunque alla fine dell'episodio continua, parliamoci chiaro. Ho detto, amore mio, io ti ringrazio che tu hai voluto partecipare al mio podcast, ma se fosse una domanda che hai risposto alla tua... cioè nel senso, di me è stato carissimo, poi ovviamente è il suo lavoro, anche per esempio la domanda sulle donne militari, ovviamente lui non è che poteva mettersi a fare tutto il discorso, comunque ci sono delle problematiche nel mondo delle donne militari, che non vi starò a dire in questo episodio, magari ve ne farò un altro, perché è un argomento un pochino delicato, però comunque lui ha detto la verità, però non si è messo a farvi il discorsone, anche rispondendo alle altre domande. Perché quello è Dylan? Io sono contenta, perché tante persone mi hanno scritto e mi hanno detto si vede che Dylan è un bravissimo ragazzo, è riuscito a trasparire anche tramite lo schermo quanto è molto delicato, molto riservato, molto simpatico, i suoi modi, ed è proprio così. Poi Dylan ovviamente solo con le persone che conosce, per esempio lui si apre ed è proprio il più giocherellone del mondo, è un ragazzo veramente molto intelligente, molto dolce, però sono davvero contenta che finalmente siamo riusciti a fare un episodio completo, e Dylan ha un pochino parlato, perché sapete poi lui non è che parla così tanto, ecco la parlantina ce l'ho io, però lo sappiamo, no? Ci bilanciamo. Ci bilanciamo? Vabbè, comunque, torniamo a noi. Allora, questo mi pare che sia il settimo episodio? Il settimo episodio? Non ne sono certa, penso. Di cosa parleremo? Di cosa parleremo? Questa è una domanda super gettonata, che mi avete fatto sotto qualsiasi social, sotto qualsiasi video, foto, TikTok, Instagram, anche qui su YouTube. Mi avete chiesto come mi sono trasferita negli Stati Uniti, come ho fatto a rimanere, a livello di visti, a livello di quando ho fatto la ragazza alla pari, cosa ti serve, cosa non ti serve. Cercherò di non farvela proprio troppo, troppo lunga, perché ci sono tanti documenti, ci sono tante cose da dire, però cercherò di essere il più esaustiva possibile. Cominciamo nel dire che io mi sono trasferita negli Stati Uniti nel 2019 come ragazza alla pari. Questo è l'episodio, sì, avete ragione, io ve lo dico sempre e poi non ve lo faccio mai. Il prossimo vi giuro che sarà come diventare una ragazza alla pari, cosa serve e tutti i requisiti, eccetera, eccetera. Io sono partita come ragazza alla pari nel 2019 e non sapevo assolutamente di questo programma, volevo andare a fare un'esperienza negli Stati Uniti, mi ero appena laureata in lingue nel 2018 praticamente, sono passati, io mi sono laureata che era aprile, sono passati qualche mese e poi a febbraio 2019 sono partita come ragazza alla pari. Volevo fare questa esperienza negli Stati Uniti ma non sapevo da dove partire. L'exchange student, ovvero lo scambio culturale che voi fate praticamente il quarto anno negli Stati Uniti che in Italia è il quinto, quindi praticamente prendete la graduation, prendete la maturità negli Stati Uniti, poi parlavamo di Dylan con questa cosa, che loro non hanno prima, seconda, terza, elementare, media, loro hanno i grades, first grade, second grade, e mi pare che sia tutto uguale, ne parlavamo l'altra sera, loro hanno la preschool, quindi il kindergarten, poi hanno l'elementary school, come noi mi pare che siano 5 anni, poi c'è la middle school, e poi loro hanno l'elementary, scusate, la high school, che sono 4 anni, quindi non 5. Quindi diciamo che, mi sono persa quello che stavo dicendo, ah ok, c'era l'opzione dell'exchange student, ma io non lo potevo più fare, perché ero laureata, quindi cosa ho deciso, ho detto vado su Google, cerco cosa posso, cosa posso, non posso fare a livello di esperienze, e così molto random, ho trovato l'esperienza di ragazza alla pari, cos'è la ragazza alla pari? Non ne ho idea, cioè io l'ho trovato, ah bello, interessante, ah beh stavo un anno in una famiglia, beh figo vado, scusate, io proprio, calcolate nel 2019, io penso di essere stata una tra le prime, sui social, perché poi TikTok ha cominciato a sfondare, 2019, 2020, sono stata una delle prime a parlare del programma alla pari, poi da lì tantissime ragazze mi hanno scritto, e sono partite, e infatti sono molto onorata di questa cosa, perché nessuno prima ne parlava, cioè avrevo trovato una ragazza, ma poi erano tutte comunque spagnole, straniere, e comunque lo sai, sì l'esperienza è quella, però vuoi, l'esperienza raccontata da qualcuno, dell'italiano, della tua stessa cultura, che vive nella tua stessa società, non lo so, sai, è come quando qualcuno ti dà un consiglio, e viene da, che ne so, un americano, ma quello non vive come te, noi italiani viviamo tutti più o meno la stessa vita, quindi, vuoi, capito, che venga raccontato da un italiano, quindi aveva trovato una ragazza, ma, non ne parlava più di tanto, magari diceva cosa portare nella valigia, io, sai, ti dico, me butto, tanto, non sapevo proprio, zero, sapete cosa vuol dire, zero, proprio non sapevo nulla, e, quindi cosa succede, per diventare una ragazza alla pari, voi avete delle opzioni, ovviamente, io vi consiglio, lo dico da quando ho cominciato a parlare dell'esperienza, di affidarvi ad un'agenzia au pair, io poi, nel video vi farò, vi spiegherò a chi mi sono affidata, però io mi sono affidata, a au pair international, avevano sede a Roma, cioè hanno sede a Roma, mi sembra ancora, via Cola di Rianzo, e sono andata a fare un colloquio con loro, fai un colloquio conoscitivo, e poi appunto, cominci a fare i colloqui con le famiglie, è tornato Dylan in tutto questo, e cominci a fare i colloqui con le famiglie, poi se scegli, nel momento in cui scegli la tua famiglia, cominci il processo per avere il visto J1, quindi questo è il primissimo visto per fare la ragazza alla pari, il J1 non è così difficile da prendere, perché comunque, siete con un'agenzia, state andando a fare un'esperienza di un anno, vi chiedono effettivamente la vostra fedina penale, sono andata a Comune di Roma, o mi parla la polizia, non mi ricordo, e ho chiesto la fedina penale, vogliono tutti i vostri, per esempio il certificato di nascita, poi la maturità, il foglio della maturità, il foglio della laurea, insomma, vogliono abbastanza, vogliono sapere quanti soldi i vostri genitori hanno in banca, se siete sotto i vostri genitori, quindi ci sono un pochino di cose, ci sono un pochino di cose di cui avete bisogno, ma poi comunque vi dirà tutto l'agenzia, quindi avere il J1 non è una cosa così difficile, ci vuole un pochino di tempo per mettere insieme tutta la documentazione, poi avete l'appuntamento all'ambasciata americana, che a Roma è questo, scusatemi, c'è un momento di panico, qua c'è idea, avete l'appuntamento all'ambasciata americana, e appunto fate il colloquio, e io vi dico, ci sono state delle persone a cui è stato rifiutato il visto J1, nonostante non fosse una green card, o un visto lavorativo, o un visto per stare più tempo negli Stati Uniti, perché quelli sono un pochino più complicati, alcune persone è stato rifiutato, non mi chiedete il perché, non mi chiedete il per come, ma mi ricordo che stavo, mi sembra nel gruppo delle au pair, che stavano per partire, che stavano andando a fare anche loro l'intervista, ed alcune era stato rifiutato, adesso io non so perché, non mi ricordo, è stato un po' di tempo fa, però io mi aspettavo tutti, mi hanno messo l'ansia, guarda che ti parlano in inglese, guarda che sono molto stritte, così, io sono andata, il tizio parlava in italiano, che va a fare, vado a fare ragazza la pari, quando stai un anno, ah beh, com'è il tuo livello d'inglese, ah e che ti aspetti da questa esperienza, perfetto, grazie, ciao, questo è il visto, dopo una settimana, io ho lasciato il passaporto lì, dopo una settimana, mi è arrivato il passaporto, col visto J1, e entra la posta, appunto, molto, molto easy, e quindi questo è stato il visto J1, poi riguarda gli altri visti, comunque trovate tutto su internet, riguardo visti per studenti, ci sono anche delle borse di studio, se siete magari molto, molto bravi in uno sport, ci sono anche dei visti, gli Stati Uniti proprio stessi, vi sponsorizzano per venire a, che ne so, basketball, soccer, football, se siete bravi, insomma è uno di questi sport, vi sponsorizzano, quindi informatevi, avevo fatto un paio di video anche su TikTok, se vi capita, stanno nella cartella USA, poi, cosa è successo? Io sono rimasta un anno, come ragazza alla pari, non sono rimasta, perché poi potete vivere un anno, e poi estendere un altro anno, io non ho esteso, la domanda che mi fanno tutti è, perché non hai esteso? la risposta che vedo è, non lo so, non lo so, anzi, forse ve lo so dire, quando sono partita come ragazza alla pari, ero con questa agenzia, Opera International, che era molto, molto piccolina, adesso si sono estesi, ma quando sono partita io, era l'unica, l'unica che ti faceva pagare 250 euro, punto, tutte le altre chiedevano 1.500, 1.600, 2.000 euro, che adesso capisco anche il perché, perché era piccolina, e non c'era molta scelta, nelle famiglie, ed è, adesso mi ricordo, perché non ho esteso, perché non c'erano abbastanza famiglie, e non, io volevo, comunque, ho vissuto in una cittadina, vicino Seattle, non stavo Seattle, al centro, e volevo andare a fare l'esperienza, se, se estendo, voglio vivere in una big city, voglio vivere in New York, a Los Angeles, voglio fare un'esperienza figa, proprio in una big city, e mi ricordo che non c'erano abbastanza famiglie, avevo fatto un colloquio con una famiglia di New York, ma, non mi avevano più richiamato, quindi ho detto, sai che ti dico, torno in Italia, e poi è scoppiata il covid, e sono tornata, proprio io una settimana prima che scoppiasse il covid, sono arrivata a casa, settimana dopo il lockdown, quindi immaginatevi, dopo l'esperienza che ho fatto, perché comunque è un'esperienza, io la chiamerei mistica, è comunque una bellissima esperienza, poi vi ripeto, ve lo racconterò nell'episodio di Ragazza alla Pari, però, è una bellissima, state lontani dalla vostra famiglia, state lontani da tutto, è come se per un anno, due anni, se stendete, vivete in un mondo parallelo, proprio, sta senza pensieri, proprio, capite? non devi pensare a niente, vivi che è la famiglia, c'è la tua paghetta settimanale, ti prendi cura ai ragazzini, e poi per il resto, io ho viaggiato tantissimo, ho viaggiato per tutti gli Stati Uniti, un'esperienza figa, però, pro e contro, poi ve ne parlerò, poi cosa è successo? Io mi sono, vi schippo tutta la parte, perché non stiamo a parlare della relazione con Dylan, stiamo parlando di visti, Cosa succede? Io torno in Italia, poi ritorno, faccio avanti e indietro con l'ESTA, l'ESTA è il, non è un visto, perché non è un visto, è tipo un bollo turistico, chiamiamolo, che voi fate sul sito del USCIS americano, pagate, che so, 15-20 dollari, adesso non so quanto costi, in questo momento, quando lo prendevo io era tipo 10-15 dollari, andate, lo comprate, e potete stare tre mesi, tre mesi max, se sforate, state illegali, non lo potete fare, quindi potete stare tre mesi, ma come turisti, non potete lavorare, non potete fare niente, perché se vi beccano, vi fanno un sederone così, quindi non potete lavorare, potete andare come turisti, potete viaggiare, potete fare road trip, per tre mesi, bello tutta, quindi quando io poi ho cominciato la relazione con Dylan, facevo avanti e indietro con l'ESTA, stavo due mesi, stavo tre mesi, il problema è che loro possono cominciare ad insospettirsi se voi cominciate a fare avanti e indietro troppe volte durante l'anno, perché possono pensare che state cercando lavoro, che state planning, quindi organizzando il matrimonio, insomma, comunque loro, se non siete mai stati negli Stati Uniti, nel momento in cui arrivate al border control, quindi alla Dugana, vi chiedono qual è lo scopo del tuo viaggio, quanto stai, c'hai il biglietto di ritorno, quanti soldi c'hai, sei fidanzata, chi è il tuo fidanzato, a me mi avevano portato pure nella saletta, perché mi sembra che era la terza o la quarta volta che andavo con l'ESTA, mi sono insospettiti, e addirittura una volta, pensate, io ancora non, ero le primissime volte con Dylan, e mi ricordo che la tizia mi chiese, qual è il middle name del tuo fidanzato, io così, non lo sapevo, ma non è che non lo sapevo, sapevo che era Keith, perché Dylan si chiama Dylan Keith, ma, in quel momento ero un panicata, quindi io così, e lei, non sai il middle name del tuo fidanzato? No, cioè sì, ma no, vabbè, poi mi chiese, dove siete conosciuti, insomma, è stata un'esperienza pure quella abbastanza mistica, un'ansia tremenda, ho detto, mamma mia, questi me deportano, e non mi fanno più entrare negli Stati Uniti, però, tutto bene, anche perché poi comunque Dylan è un militare, e era già al tempo militare, quindi, è stata una cosa un pochino più semplice, dai, diciamo semplice, quindi, io ho fatto per un bel po', avanti e indietro con l'esta, e, l'ultima volta, pensate che risate, l'ultima volta che sono arrivata al border control, a New York, perché io arrivavo sempre a New York, e che poi ti dicono tutti, non andà al border control a New York, perché sono i più, rompiscatoline, vai negli aeroporti più, delle cittadine più piccole, perché non ti stanno a rompe come te rompe nel New York, e io ovviamente tutte le volte arrivavo a New York, avevi dubbi, ovviamente no, e, l'ultima volta che sono arrivata a New York, la tizia mi fa, ah, rimani tre mesi, io sì, finalmente, non è ancora mio marito, il mio fidanzato è tornato dal deployment, e finalmente riusciamo a stanziarmi per tre mesi, perché io, non sapevo che mi sarei sposata, io dovevo tornare a casa dopo tre mesi, c'è avuto il biglietto di ritorno, e io così, no, ma io perché proprio no, cioè io proprio, io no, ma che stai a dire, io non mi devo sposare, perché io non mi dovevo sposare, e questo mi fa, it's a big privilege being an American citizenship, e io ho risposto, ah, hai perfettamente ragione, e io ovviamente gli ho detto, oh yeah, yeah, no, but I'm not planning on getting married, e dentro a me ho pensato, io rispetto il tuo essere patriottica, ma io sto benissimo, sono cittadina italiana, c'ho uno dei passaporti più potenti al mondo, non me ne faccio niente da citizenship, al massimo, guarda, c'ho bisogno della green card, così posso stare con mio marito, ma da citizenship, poco me ne frega, fatto sta che, non so se lo sapevate, voi potete ottenere la cittadinanza, potete richiedere la cittadinanza, dopo tre anni dall'ottenimento della green card, e io sinceramente, vi dico la verità, io ho la green card dei tre anni, non scusate, dei due anni, manco mi ricordo, devo andare a controllare, e, non so manco se chiederò subito la cittadinanza, perché fondamentalmente, ma che me frega, cioè io per adesso sono cittadina italiana, posso semplicemente rinnovare la green card, per quella dei dieci anni, e poi tra dieci anni si vedrà, se vuoi che la cittadinanza, beh, me frega niente la cittadinanza, io ho bisogno della green card, per stare con Dylan, perché sono sposata con Dylan, e, quindi niente, tornando a noi, vabbè, questa è stata la mia esperienza, col border control, poi io sono stata tre mesi con Dylan, e nel 2021, cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di sposarci, adesso, questo è un discorso un pochino complesso, e ascoltatemi bene, ascoltatemi bene, perché non, i furbetti non li potete fare, questa è la premessa del video, i furbetti non li potete fare, come funziona? Tantissime ragazze alla pari, hanno trovato l'amore della loro vita, quella dovevo essere io, ma siccome io non sapevo che mi sarei sposata, non sapevo che mi sarei fidanzata con Dylan, e non ho esteso, cosa succede? Quando le ragazze alla pari si fidanzano, e si innamorano di un americano, durante l'esperienza, la cosa più semplice da fare, siccome voi avete già un visto J1, quindi è come se siete già, sanno già tutto di voi, hanno tutte le informazioni di cui hanno bisogno, cosa succede? Ti sposi, quando sei ancora ragazza alla pari, quindi hai un J1, e cosa fai? Passi semplicemente al fiancé visa, molto più semplice, meno costoso, stai in America, non devi rimanere così, come una broccoli, e la green card arriva molto più velocemente. Purtroppo, questa non sono stata io, non lo sante, ero, possedevo il J1, il visto J1, quindi cosa è successo? ci siamo sposati, io ero con l'esta, ok? Con l'esta voi non vi potete sposare, non vi potete sposare, con l'esta è illegale, è reato, se vi beccano, vi fanno un culo così, ma, ma, parlate con tutti gli avvocati che volete, io ho parlato con tre avvocati, con chiunque volete, questa cosa che sto per dire è vera, perché su TikTok avevo fatto un video, e apri di cielo, ma che stai a di, ma che stai a fa, ma non è vero, è così. Quando tu vai come turista, vai con l'esta, ok? Tu, cicciabella, te prendo tu come esempio, comunque sia, vai tre mesi a fare un road trip in America, mentre fai road trip, ti, 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 incontri l'uomo della tua vita, oddio, ti amo, anche io ti amo, sposiamoci. Ti sposi, ti sposi, eh, con l'esta. Nel momento in cui ti sposi con l'esta, non diventa più, un reato, una cosa illegale, perché tu ti sei sposata per amore, ok? Può succedere che tu vai negli Stati Uniti con l'esta, ma non, non con l'intenzione di sposarti, attenzione, questo è importante, non con l'intenzione di sposarti, tu vai lì perché vuoi fare un road trip, e mi direi, ti sposi, sentite, vai a Las Vegas, fai il matrimonio, sei sposato, e voi vi chiederete, e come fanno loro a capire, se io non ero davvero intenzionata ad andare alla collesta, a fare solo la turista, come fanno a capirlo? Che io non sono andata lì perché veramente me volevo sposare, ho fatto tutto e nascosto. Allora, io una cosa vi posso dire, ci sono persone che fanno in cicci, picci, pagano gli americani, non so quanti mila, c'è addirittura una persona che conosco, che l'ha fatto, infatti quando mi ha detto, ho detto, tu sei un pazzo, è un uomo poi, però è funzionato, ha funzionato. Una cosa vi posso dire, gli OSIS che sarebbe praticamente l'ufficio immigrazione americano, comunque il governo americano, voi non lo fregate, gli americani voi non li fregate, loro sanno tutto, scoprono tutto, i furbi non li potete fare, io vi do un consiglio, i furbi non li potete fare, non lo fate, non lo fate perché se vi beccano, siete bannati, non potete manco più andare in America, quindi io fossi in voi, ci penserei due, tre, quattro, sette volte, a fare cose strane. Questo ovviamente è un video puramente informativo, di quello che ho fatto io, io me lavo le mani di tutto quello che volete pensare, che fate, io ce ne ho niente. Quindi tornando a noi, vi dicevo, come fanno loro a capire, ma Ilaria è andata come turista, ma non si voleva sposare, voi nel momento in cui, io e Dylan ci siamo sposati, ok? Noi ci siamo sposati, che il mio è sta, ah questa è un'altra cosa, che vi consiglieranno poi gli avvocati, poi ovviamente ogni situazione è a sé, quando io e Dylan abbiamo parlato con l'avvocato, ci disse, guardate, sposatevi, tipo che era un giorno, mi sembra, o prima o dopo, adesso non mi ricordo, raga aiuto, devo rivedere i video, non mi ricordo se era un giorno prima o un giorno dopo che scadesse l'esta, perché ci disse, così almeno sanno, perché ovviamente se poi tu, ti sposi, cioè, loro lo capiscono anche dal fatto, che tu vai con l'esta, e puoi stare tre mesi, e tu vai con l'esta e ti sposi dopo un giorno che sei arrivato in America, è ovvio che dicono, questa è venuta no per farla turista, ma per sposarsi, quindi quello è uno dei modi, cioè, voi vi sposate, e mi ricordo che l'avvocato ci disse, sposatevi o alla fine dell'esta, o un giorno o due giorni dopo la scadenza dell'esta, ma comunque non vi preoccupate, perché Dylan è un militare, mio marito è un militare, quindi è una cosa molto molto più semplice, quindi per quello vi dico, ogni situazione è a sé, mio marito è un militare, e i militari negli Stati Uniti, come penso nel resto del mondo, sono schedati, e sapete che loro vanno in missione spessissimo, si muovono spessissimo in tutto il mondo, quindi non è una rarità che i ragazzi militari americani si sposino con straniere, con italiane, con giapponesi, tantissimi thailandesi, insomma, è normalissimo, quindi mi dice, guardate non vi preoccupate, andrà tutto bene, anche perché voi siete in buona fede, c'è proprio un documento, quando poi manderete i documenti all'USIS, che si chiama Bonafide, che voi siete in buona fede, insomma, che noi li volete, e quindi cosa è successo? Io, noi ci siamo sposati, e adesso poi vi scriverò nei commenti questa cosa, se non mi ricordo se è stato un giorno prima o un giorno dopo che scadesse l'ESTA, quindi proprio alla fine dei tre mesi, ci siamo sposati, e abbiamo subito cominciato a raccogliere le carte per la green card, quindi cosa è successo? Io sposandomi con l'ESTA, ma sposandomi in America, senza passare per il K1, il K1 è il fiancé visa, ok? Il 90 days fiancé, il K1 è lui, che voi avete 90 giorni per andare in America e sposarvi, o comunque avete 90 giorni per sposarvi, e poi potete richiedere la green card. io mi sono sposata negli Stati Uniti con l'ESTA, e quindi non ho, cioè voi se fate il K1 avete la possibilità di fare avanti e indietro, nel senso potete continuare ad utilizzare l'ESTA per andare a trovare i vostri fidanzati, i futuri mariti o mogli, e con l'ESTA se ti sposi nel mio modo non lo puoi fare. Tu nel momento in cui mandi la documentazione al USCIS, tu sei bloccata negli Stati Uniti, fino a quando non ti arriva o la green card, o se l'ha richiesto il permesso di viaggio. Quindi per me è stato il periodo più traumatico della mia vita, perché non solo trovare tutta la documentazione è stato un pain in the ass proprio, io mi ricordo le notte in sogno, e poi io ho fatto tutto da sola, perché noi abbiamo fatto il colloquio, sai quelli gratuiti dei 30 minuti con l'avvocato, con tre avvocati diversi, e poi tutto il resto ho fatto io, tramite Facebook, tramite gruppi Facebook, tramite YouTube, tutti i documenti, tutta la compilazione dei documenti passo passo, anche perché se sbagli una cosa sei finito, tutto da sola. Io mi ricordo le notte in sogni, i pianti, ho detto no, io non so che devo fare, non so come fare, ma non c'avevamo i soldi, perché già tutta la documentazione, tutte le tasse che devi pagare, già è un putiferio di soldi, più sono tipo 3-4 mila dollari, scusate, euro dollari, per l'avvocato, quindi anche questo, mettetelo in conto, costa tantissimo richiedere la green card, e mandare tutta la documentazione, perché ogni documento ha le sue tasse, le sue cose, ci sono tutte fie, chi c'è il passato lo sa, una tragedia raga, ha sempre i soldi questi, soldi, soldi, ticchi ticchi, tutti gli stati uniti, uguali soldi, quindi cosa è successo, documentazione, ti chiedono veramente, pure quante volte vai al bagno, vogliono sapere tutto, 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 ma cosa più importante, non vi starò a fare tutta la lista della documentazione, poi se volete, se siete interessati, vi farò un altro video, e cosa importante, le prove, la buona fide, le prove che voi effettivamente, avete una relazione, siete fidanzati, siete sposati, vi siete sposati, il giorno delle nozze, la foto di Tiana, tutto, tutto, noi abbiamo mandato, tutto, le conversazioni di quando Dylan era in missione, quando ci siamo incontrati, abbiamo iniziato a parlare quando ero per, lettere, messaggi, chiamate, foto, qualsiasi tipo di foto, foto con la famiglia di lui, foto con la famiglia mia, no, perché ancora non l'aveva conosciuti, foto di noi in videochiamata, tutto quello che avevamo, le foto del mio biglietto aereo andato e ritorno, il biglietto aereo del ritorno, così loro, cioè, così per dire, guarda che io il biglietto di ritorno ce l'avevo, io l'avevo pagato, io i sordi l'ho persi, perché io non me volevo sposar, noi non avevamo il programma di sposarci, era completamente proprio rando, cioè Dylan mi ha fatto la proposta, amore mio ti amo, io non voglio che te ne vai in Italia, manco io voglio stare con te, sposiamoci, punto, ci siamo sposati, ma nulla era programmato, quindi, io per davvero era un buona fede, e secondo me poi loro lo sanno, anche perché poi comunque dovete pensare che io già facevo contenuti sui social, non so se vi ricordate, e già avevo video con Dylan, raccontavo la storia, cioè, io era molto più semplice capire, capito, che Ilaria è un buona fede, Ilaria non ci sta a fregare, ecco, fondamentalmente è quello, però comunque, la risposta che vi do, quindi è come fanno a capire, che siete in buona fede, la risposta è questa, tutta la documentazione, tutte le foto, qualsiasi tipo, abbiamo mandato, lui che pagava il mio telefono, lui che pagava l'appartamento, e io ero nel contratto dell'appartamento, lui che pagava la mia macchina, perché Dylan sente stato la mia macchina, tutte le prove, che io effettivamente, stavo vivendo con mio marito, anche perché, state attenti, perché ho sentito delle cose, e le fanno, ho sentito delle cose atroci, che vi vengono durante la notte, gli USCIS vi viene, se hanno dei sospetti, vi vengono durante la notte, e controllano l'armadio, avete le vostre cose nell'armadio, e del tipo, tu veramente stai a vivere qua, fammi vedere un spazzolino, cose di questo genere, che vi vengono durante la notte, e vi vedono se stai a dormire con tuo marito, per questo vi dico, il governo americano, non lo fregate, quindi poi, cosa è successo, abbiamo mandato tutta la documentazione, mi sembra che era novembre 2021, e poi c'è stato, l'attesa infinita, che non è mai finita, è stato, poi c'era, noi avevamo ancora, diciamo, problemini con il covid, qua negli Stati Uniti, quindi, l'ufficio immigrazione americano, era ancora più lento, già sono lenti, ancora più lenti, quindi, io avevo richiesto pure il permesso di viaggio, perché dovevo andare in Italia, e dovevamo cominciare a organizzare, il matrimonio, mi è arrivato il permesso di lavoro, che quello ti arriva a prescindere, perché così cominci, puoi cominciare a lavorare, mi sembra che mi è arrivato a marzo, quindi da novembre a marzo, ci può stare, il problema è stato il permesso di viaggio, che quello mi è arrivato, pensate quanto farire, mi è arrivato a dicembre, no, scusate, sì, mi è arrivato a dicembre, perché noi a gennaio dell'anno dopo, del 2023, siamo andati in Italia, a mia green card, mi è arrivata a maggio 2023, quindi fondamentalmente, cioè noi siamo andati a gennaio, cioè se fondamentalmente aspettavo, e andavo qua a green card, e niente, è stata una bella attesa, è stato un viaggio, un'attesa infinita, poi è arrivato, il permesso di viaggio, poi non ci ha fatto più in cavolo, perché poi mi è arrivata a green card, e, ma questo comunque, diciamo, è per tornare a noi, non dilungarmi, è stato come, ho appunto, come ho fatto a rimanere negli Stati Uniti, la documentazione, eccetera, eccetera, io vi ripeto, non provate a fare i furbarelli, perché spesso vedo pure la gente straniera, che fa i video, io che faccio finta di sposarmi, con il mio migliore amico americano, per avere la green card, state attenti, perché UOCIS, guarda pure i TikTok, guarda i social, soprattutto gli americani, che gli americani, i social, li guardano, li utilizzano, sai quante persone, negli Stati Uniti, sono state licenziate, addirittura, per TikTok, cose, quante ne sentite, state attenti, non li fregate, ve lo posso assicurare, comunque, quanto siamo arrivati, siamo arrivati a 33 minuti, e io direi che, io ho detto tutto quello che vi dovevo dire, vi farò sapere riguardo quella cosa, non mi ricordo se ci siamo sposati, prima la scadenza dell'esta, o dopo la scadenza dell'esta, ma ripeto, voi siete illegali, nel senso che se vi sposate con l'esta, diventa illegale, se voi andate con l'intenzione di sposarvi, ma se voi andate da turista, e incontrate l'amore della vostra vita, queste sono le parole di tutti gli avvocati con cui ho parlato, incontrate l'amore della vostra vita, voi non potete, decide, ah no, non te può innamorare, l'amore, no, l'americano non va bene, no, tronca, no, quindi, se io vado negli Stati Uniti, e incontro l'amore della mia vita, con l'esta, è che ho deciso io, e se l'amore della mia vita, mi fa proposta a matrimonio, e io mi voglio sposare, mi posso sposare con l'esta, perché poi il fatto dell'illegalità cade, capite, poi ovviamente la scelta è vostra, se voi volete andare con il processo K1, e quindi non rimanere bloccati come me, che è stato l'anno peggiore della mia vita, bloccata negli Stati Uniti, non potevo tornare in Italia, io ero completamente in gabbia, è stata una delle sensazioni più brutte della mia vita, quando vi dicono che c'è le cose davanti, e non le usi, poi però quando non ce l'hai più le vuoi, ecco, io, il pensiero di non avere la libertà, di tornare in Italia, a vedere la mia famiglia, era qualcosa che proprio mi uccideva, e quindi voi potete fare questa cosa, se ovviamente trovate l'amore alla vostra vita, e non se volete fare i furbarelli, altrimenti se no richiedete il K1, quindi cosa fate, invece di aspettare che finiscano i tre mesi, tornate in Italia, e da lì chiedete il K1, e poi da lì fate tutto il processo, e fate avanti in Didru, fino a quando non vi arriva la Green Card, e niente, quindi questo è come ho ottenuto la Green Card, questo è come sono rimasta negli Stati Uniti, se avete qualsiasi tipo di domanda, lasciate le vostre domande nei commenti, e seguitemi su tutti i social, io sono sempre Iaierondi, Instagram, TikTok, YouTube, qui siamo qui, e potete sentirlo, se state sentendo su podcast, Apple Podcasts and Spotify, e io vi ringrazio, e ci vediamo nel prossimo episodio, di Keeping Up With Iaierondi, ciao!